Rifiuti e non solo. L'area parcheggio di via Criscuolo a Pagani versa in condizioni di degrado. La pavimentazione andrebbe riqualificata anche perché ci sono numerosi avvallamenti che mettono in difficoltà i pedoni che rischiano di cadere. Per la presenza dei rifiuti il Comune sta cercando di correre ai ripari perché proprio in questi giorni è stata pubblicata una gara ad hoc per affidare la pulizia sia delle aree sosta presenti in città che delle varie villette, delle piazzette, dell'arena pignataria e della villa comunale ad una ditta esterna. Questo è un percorso collaterale a quello che è il ragionamento del consorzio perché loro non svolgono questo servizio, anzi se glielo richiediamo molte volte non possono farlo, la richiesta economica è molto esosa e quindi gli uffici si sono attrezzati per poter fare un lavoro attraverso altre ditte e credo che è più vantaggioso per l'ente e poi sicuramente tante di queste aree meritano attenzione quasi giornaliera e quindi non potevamo stare più ai tempi biblici del consorzio.